Ciao, in questo screencast vedremo come configurare, in pochi e semplici passi, una connessione internet di backup in Endian Hotspot. Cominciamo con l'aggiungere il secondo uplink nella sezione interfacce. Mettiamo un nome che descriva l'uplink. Scegliamo il tipo di connessione, nel nostro caso DHCP. Su interfaccia Ethernet e selezioniamo l'interfaccia Ethernet a cui assegnarla. Qui inseriamo degli host sempre raggiungibili per permettere al sistema di capire se la connessione internet dell'applink è attiva. Nell'esempio, due IP di server Google. Una volta creato l'applink secondario, andiamo a modificare l'applink principale per dirgli di utilizzare l'applink appena creato come backup. Anche qui mettiamo degli IP sempre raggiungibili. Quando la connessione principale smette di funzionare, il sistema se ne accorge e tutto il traffico viene ridirezionato all'applink di backup. Grazie a tutti. Grazie a tutti.